Di Federico de Roberto, i vicere, voce di Lorenzo Pieri, libro primo, capitolo quinto, seconda parte. A poco a poco una società numerosa si era venuta raccogliendo in casa del principe. Tutti i signori rifugiati al belvedere, tutti i personaggi ragguardevoli del luogo, venivano alla villa Franca Lanza, dove con un trattamento d'acqua e anice il principe si faceva fare la corte. C'era mezza Catania al belvedere e gli Uzzeda, che in città erano molto severi, facevano adesso larghe concessioni, atteso il luogo e la stagione ricevendo gente di minuscola o anche di nessuna nobiltà, tutti coloro che Donna Ferdinanda derideva o disprezzava, dei quali storpiava i nomi o ai quali assegnava bislacche armi parlanti, i scilocca che chiamava siloca, i maurigno che si facevano dare del cavaliere e che la zitellona chiamava cavalieri a piedi, i mongiolino che discendendo da fornaciai arricchiti dovevano portare nello scudo tegoli e mattoni. Solo i giulente di quella casta dubbia non venivano alla villa per via del figliuolo, ma il principe quando incontrava Benedetto, suo padre o suo zio, al casino pubblico, rivolgeva loro la parola molto affabilmente e il giovane, che non aveva interrotto la corrispondenza con Lucrezia, le riferiva tutto contento quelle amabili dimostrazioni. Ma la gioia, invece di scemare, accresceva l'abituale distrazione della ragazza. Ella chiedeva notizie ai vedovi della salute delle mogli defunte, scambiava le persone, non rammentava nulla. Una sera fece ridere tutta la società domandando allo speziale del belvedere, che aveva una sorella in convento, e vostra sorella monaca, con chi è maritata? Il tema obbligato di tutti i discorsi erano naturalmente le notizie della città, dove il colera si diffondeva, lentamente però, senza divampare, con la forza spaventosa dell'anno innanzi. Poi ciascuno dava notizie dei parenti e degli amici rifugiati qua e là per il bosco etneo. La cugina Graziella, che era alla Zaffarana, mandava biglietti o ambasciate coi carrettieri quasi tutti i giorni, per sapere come stavano i cugini e dir loro come stava ella stessa e il marito, e salutarli caramente e mandar regali di frutta e di vino. La duchessa Radali Uzzeda, dalla Tardaria, non scriveva perché il duca, nel trambusto dell'improvvisa scappata, era diventato furioso. La pazzia, nel ramo dei Radali, era una malattia di famiglia. Il duca aveva dato nelle prime smanie tre anni innanzi, alla nascita del suo secondo figlio Giovannino. E la duchessa, fin da quel tempo, vistosi cadere sulle spalle il peso della casa, aveva rinunziato al mondo per tener luogo di padre ai figliuoli. Li voleva bene entrambi, ma le sue preferenze erano per il duchino Michele. Non contenta dell'istituzione del majorasco, lavorava a migliorare le proprietà, faceva una vita d'economie e di sacrifici per lasciarlo ancora più ricco. Ella non dava ombra a nessuno degli Uzzeda. La stessa donna Ferdinanda, che si credeva alla sola testa forte, la provava. Al belvedere, nonostante il colera, la zitellona s'occupava d'affari, appartandosi con gli uomini che se ne intendevano, parlando di mutui, di ipoteche, di crediti da poter accordare, di fallimenti da temere. E mentre il principe di Roccasciano esponeva alla speculatrice i piani laboriosi, coi quali costruiva pazientemente e lentamente l'edifizio della propria fortuna, la principessa sua moglie, di nascosto da lui, si giocava con Raimondo e con gli altri appassionati delle carte tutto quel che aveva in tasca. Il principe Giacomo vedeva qualche volta giocare senza mettere fuori un baiocco, ma il più del tempo discorreva con quelli del paese. Venivano a fargli la corte e il medico, lo speziale, i possidenti più grossi, la gente la cui c'era gli andava avverso, perché quanti tra i familiari della madre gli parevano iettatori, erano stati da lui messi fuori. Non mancavano il vicario, il cappellano, tutte le sottane nere del villaggio. Come in città, la casa Uzeda era qui frequentata da tutto il clero regolare e secolare, per la sua fama di devozione, per il bene sempre fatto alla chiesa. Il rifiuto del principe di riconoscere il legato all'abbadia di San Placido non lo pregiudicava presso i padri spirituali. In vita era umano che egli cercasse di tenere per sé la più parte della roba. Così pure aveva fatto sua madre. Morendo, avrebbe poi largheggiato con la chiesa per assicurarsi la salute dell'anima. Come capo della casa, egli aveva del resto la facoltà di nominare i sacerdoti celebranti in tutte le cappellanie e benefici fondati dai suoi antenati. Lì, al Belvedere, specialmente, ce n'era una molto pingue, quella del Sacro Lume. Un Silvio Uzeda, dolce di sale, vissuto un secolo e mezzo addietro, era stato sempre attorniato da preti e frati. I monaci del convento di Santa Maria del Sacro Lume l'avevano persuaso che la Madonna voleva sposarsi con lui, ed egli non era entrato nei panni dal contento. La tradizione narrava che avevano compito la cerimonia con tutte le formalità. Lo sposo, dopo essersi confessato e comunicato, era stato condotto in abito di gala dinnanzi alla statua di Maria Santissima, e il sacerdote gli aveva regolarmente domandato se era contento di sposarla. Sì, aveva risposto Luzeda. Poi la stessa domanda era stata fatta alla regina del cielo, e per bocca del guardiano del convento anche ella aveva risposto sì. Poi s'erano scambiati gli anelli. La statua portava ancora al dito quello dello sposo, il quale aveva naturalmente lasciato alla consorte tutti i suoi beni. Una lunga lite ne era seguita, non avendo voluto gli eredi naturali riconoscere il testamento del matto. Finalmente, per via di transazione, s'era istituita nel convento, con metà dei beni, una cappellania laicale, sulla quale gli Uzzeda avevano esercitato il gius patronato. Così tutti i monaci venivano la sera a fare la corte al principe, discutevano con lui gli affari del monastero. Tra tutta quella gente egli papeggiava, sputava tondo, ascoltato come un dio, dimenticava il resto della società, le signore e le signorine che giocavano a tombola, o a spiegar sciarade, o combinare escursioni per la montagna, e passavano il tempo allegramente che senza le notizie del colera e i paesani armati per tener lontani i tardi fuggiaschi, nessuno avrebbe pensato che quelli fossero tempi di pestilenza. Solo la contessa Matilde, fra le generali distrazioni, non riusciva a nascondere il proprio dolore. Ella era venuta via dalla città quasi fuori di sentimento, tanto forte era stata la prova a cui l'avevano messa. Con l'animo pieno di spavento e di rimorso, sul punto di partire per la villa, ella aveva riconosciuto che la pena meno sopportabile non le veniva più dalla lontananza della sua bambina, ma dal tradimento di Raimondo. Come poteva più metterlo in dubbio? La verità non le si era improvvisamente svelata all'annunzio che egli andava al Belvedere, dove andava la fersa. Perché mai egli così insofferente di vivere in Sicilia si era rifiutato a partire per il continente, se non perché voleva restare vicino a colei, e aveva finto di non sapersi decidere, per aspettare che si decidesse quell'altra, e aveva mendicato pretesti e accusato il suocero, e si bene temporeggiato che allo scoppio della pestilenza aveva fatto a modo suo. Né in quelle finzioni, in quelle menzogne, ella vedeva più la conferma dei brutti lati del suo carattere. Esse non l'accoravano perché egli ne era stato capace, solo il pensiero che le aveva adoperate per amor di quell'altra era il suo cruccio. Che non amasse la figlia, che fosse ingiusto verso il suocero e prepotente, capriccioso, sgraziato, non le faceva nulla. Ella non voleva che fosse d'altri. A Firenze la gelosia di lei non aveva avuto oggetto determinato, o aveva continuamente mutato d'oggetto, poiché egli faceva la corte a quante donne vedeva. Ella stessa, poi, se era fino a un certo punto assicurata, giacché, galante a parole con le signore, la mutabilità e l'impazienza dei suoi desideri gli facevano preferire quell'altre, le donne che si pagano. Che vergognoso dolore era stato il suo nel vedersi ridotta al punto di doversene rallegrare. Eppure, ella invidiava ora le sofferenze passate, giudicando insoffribile l'idea di saperlo così pieno d'un'altra, da abbandonare la figlia in quei terribili giorni per starle vicino. Poi il suo cruccio cresceva, misurando la rapidità con la quale egli progrediva nella via del tradimento. A Firenze aveva messo un certo pudore nelle sue tresche. Si era quasi studiato, a momenti, di farsele perdonare, tornando ad ora ad ora buono con lei. Adesso sfrenavasi, fino a costringerla ad essere spettatrice dell'infamia. Questo, soprattutto, la feriva, che potessero essere così tristi da darsi un simile convegno sotto gli occhi di lei, mentre i cuori umani tremavano al pensiero della morte. Che giorno, quello della fuga al bel vedere per le vie arroventate dal sole, in mezzo a nugoli di polvere calda e soffocante. Ella era nella stessa carrozza con Chiara, Lucrezia e il Marchese, e la vista delle cure che questi prodigava alla moglie faceva più acuto il suo dolore. Raimondo non s'era voluto metter con lei. L'aveva lasciata sola in quella corsa per i villaggi, dove gente armata fermava ogni persona ed ogni veicolo, contrastando il passo. Ma comprendeva ella nulla di tutto questo, vedeva nulla sul suo cammino. Ella vedeva, con gli occhi della mente, Raimondo sorridente e felice a fianco di quella donna, come l'aveva visto in realtà tante volte senza che la sua nativa fiducia la insospettisse. Ora, però, tutte le cose che ella non aveva saputo spiegare avevano un senso evidente. Le lunghe uscite di Raimondo, le sue attese impazienti, il piacere che gli si leggeva negli occhi appena entrava colei, lo stesso senso misterioso di repulsione che quella donna le aveva ispirato fin dal primo momento. Come doveva essere falsa e malvagia, se le dava il tenero nome d'amica e la abbracciava e la baciava, mentre le portava via il marito. Egli stesso non era falso altrettanto, quante menzogne! Aveva anche addotto la gravidanza di lei per non lasciarla Sicilia, e non si accorgeva da tentare in quel modo alla vita della creatura che ella portava in grembo. Che giorno terribile! Nella carrozza, scottante come un forno, al cui sportello s'affacciavano visi sospettosi di contadini brutali, piena del nauseante odore della canfora, che Chiara e Lucrezia tenevano alle narici contro la nefite, e la sentiva mancarsi il respiro. Non sapeva dov'era, dove andava, voleva gridare al cocchiere, alle compagne di viaggio, tornate indietro, non voglio venire, o affrontar suo marito, buttargli in faccia il tradimento, scongiurarlo di non condurla vicino a quella donna, di non farla morire, di salvare la creatura che s'agitava nelle sue viscere, di ridare la pace al suo cuore, l'aria al suo petto. Aveva perduto i sensi, infatti, prima d'arrivare al belvedere. Non rammentava più come quando fosse entrata alla villa. Lì era cominciata per lei una vita di trepidazione continua. Ad ogni istante aveva creduto di vedersi comparire dinnanzi la fersa. Tutte le volte che Raimondo era andato fuori, aveva pensato, adesso è con lei. E il non vederla, il non udirne parlare, accresceva il suo spavento, lo rendeva più oscuro, le procurava, non sapeva ella stessa quali orribili sospetti di cospirazioni ordite da tutti a suo danno. Aveva trovato, sì, la forza incredibile di nascondere i suoi sentimenti, per non insospettire il marito, per non dare buon gioco ai nemici, ma il silenzio imposto a se stessa, rendendo più acuto il suo tormento, le aveva tolto il mezzo di saper nulla. Perché nessuno nominava quella donna? Perché non veniva alla villa con tutti gli altri visitatori del principe dove era andata star di casa? E intenta avvagliare le mille supposizioni paurose che l'inquieta fantasia le suggeriva, ella dimenticava il colera, quasi non pensava alla figlia lontana, quasi non s'accorgeva del silenzio di suo padre. Questi doveva averla con lei, credere che avesse abbandonato la bambina per smania di divertirsi al bel vedere. Non le era accaduto sempre così, che tutto quanto aveva fatto controvoglia per obbedire agli altri, le era poi stato addebitato da tutti come capriccio colpevole. Non era ella una di quelle creature disgraziate che non riuscivano a nulla di bene, destinate a spiacere ad ognuno. Però non piangeva, non pianse neppure quando invece del padre le scrisse la sorella Carlotta per dirle che Teresina stava bene e che erano tutti al sicuro. Non pianse, ma si sentì vinta da una cupa tristezza che non riuscì a nascondere. Raimondo stesso se ne accorse le domandò, che scrive tua sorella? Nulla, che stanno tutti bene, che non corrono pericolo. Hai visto quando io ti dicevo? E le voltò le spalle. Erano passate due settimane dal loro arrivo e ancora non aveva udito parlare della fersa. La sera di quel giorno, appena cominciò a venire gente, ella andò a chiudersi nella sua camera. Stava male, non solo di spirito, ma anche fisicamente. La lunga agitazione travagliava alla fine anche il suo corpo. Era da un pezzo buttata sul letto, con gli occhi e la mente fissi nelle tristi visioni del passato, nelle paurose previsioni dell'avvenire, quando fu picchiato all'uscio. «Cognata», era la voce del principe, «che fate? Perché non venite giù, c'è molta gente stasera, si gioca». Ella levossi, acconciò con mano tremante i capelli scomposti e discese. Quell'altra era finalmente venuta. In quel momento Raimondo le stava al fianco, la chiamavano per farla assistere a quello spettacolo e per goderne. Ella guardò rapidamente nel salone Zeppo. Non c'era. Però aveva appena preso posto, accanto alle cognate, che la udì nominare. Qualcuno diceva «la casina affittata a donna Isabella». «Un guscio di noce», rispose un altro. «I mongiolino ci stanno come le acciughe in un barile». Ella non comprendeva. «Mai Fersa, dove se ne sono andati?». Era proprio Raimondo che faceva questa domanda. Non sapeva dunque dov'era colei. «Nella campagna di Leonforte, donna Mara ha preferito». Ella comprese a un tratto. La gola le si strinse convulsamente. Andata via senza dir nulla, traversò la casa con gli occhi gonfi e il cuore tumultuante. Giunta nella sua camera, cadde ai piedi dell'immagine della Vergine, scoppiando in pianto di rotto, pianto di gioia, di gratitudine, di rimorso anche, poiché ella aveva sospettato degli innocenti. Le parve di tornare da morte a vita. Coi sospetti cessarono i dolori dell'anima e del corpo. Ella partecipò alla vita della famiglia, assaporò finalmente la dolcezza del riposo. Anche le notizie del colera non le davano timore per i cari lontani. Dopo le stragi dell'anno innanzi, la pestilenza pareva non trovasse più dove apprendersi. Serpeggiava qua e là senza forza.